A Nord Italia che hanno l'obbligo di comunicare il proprio arrivo a Lecce al proprio medico di base l'ordinanza emanata dal Presidente della Regione Puglia. Dichiarare di essere rientrato in Puglia, non spostarti da casa, non uscire da casa, non viaggiare per 14 giorni. La Puglia si prepara insomma ad affrontare un altro controesodo. Da lunedì infatti potranno tornare anche coloro che il lockdown ha bloccato al Nord. Quarantena forzata secondo quanto imposto dal Presidente Emiliano anche per chi verrà in Puglia per lavoro. Ecco però che in questo modo si terrebbe bloccata la ripartenza dell'economia regionale. Questo almeno secondo quanto dichiarato da Gaetano Messuti, responsabile regionale ai movimenti civici di Forza Italia. Secondo Messuti infatti la Regione starebbe adottando due pesi e due misure. Ai parlamentari infatti sarebbe concesso di muoversi senza controllo, mentre ai cittadini no. Ed allora cosa fare? Secondo l'Avvocato Leccese, Emiliano dovrebbe predisporre test sierologici per tutti coloro che varcano i confini pugliesi, siano essi cittadini, politici o imprenditori. Controllare tutte le ondate di entrata insomma. È solo in caso di test positivo predisporre la quarantena permettendo agli altri di riprendere le proprie attività. Onorevole, ma voi parlamentari siete immuni dal contagio? Perché voi non fate né test, non fate nulla, entrate e uscite dalla Regione senza quarantena? Noi non siamo immuni. Abbiamo richiesto più volte alla Camera, che sono tra i firmatari di un appello alla Presidenza della Camera, di poter utilizzare in questa fase pandemica gli strumenti che la tecnologia moderna ci dà. Quindi lei pensa che sia proprio impossibile predisporre dei test per tutti coloro che entrano in Regione, inclusi voi parlamentari, che potreste essere voi stessi i veicoli di contagio? È poco efficace, è anzi quasi inutile. C'è un dispendio di risorse economiche che non raggiungerebbero l'obiettivo a cui sono prefissato. In questo momento è bene che la politica si rifaccia a quelle che sono le evidenze scientifiche, non a quelle che sono i desiderata di qualche santone che al massimo ha sviluppato qualche titolo o i punti miralanzi. Voi parlamentari potreste essere quindi veicolo di contagio? Infatti è la ragione per cui personalmente ogni qualvolta rientro da Roma rispetto la mia quarantena. Grazie.